La maresciata, fate pesci, mi hanno messo dentro alla cella con un certo Bartolo De Terbonzese, me se vuoi fare, a notte dormo più, sto sempre caschino addosso al muro così. Ma insomma che vuoi, tu non hai visto niente, non sai niente, non hai sentito niente. E allora? E allora mi sa tanto che tu lo devi piantare al culo a 20 cent.